Siamo nel fiume che separa Guatemala alla destra e il Messico alla sinistra. Stiamo andando verso un sito archeologico completamente nella foresta che si chiama Yaxilang e navigheremo 40 minuti su questo rio. È molto bello, siamo solo noi, è una zona turistica ma non così tanto, quindi vedremo. È emozionante stare alla frontiera dei due paesi.